Raffica di furti a Colombarone scattano i primi arresti, cresce il numero degli incidenti sulle strade marchigiane, rigenerazione hotel, nuova vita per gli alberghi all'abbandono, sabato la colletta alimentare in 400 supermercati marchigiani, le ali di Hauser a sostegno della lotta alla fibromialgia. Buonasera a tutti voi pubblico di Ierosene, Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale delle canale 80 che in questa edizione di mercoledì 15 novembre apriamo con la cronaca, sono stati infatti oltre 20 i furti registrati nelle ultime due settimane nell'area compresa fra la frazione pesarese di Colombarone, quella gabicese di Casebadioli e il comune di Gradara. Ora il servizio intensificato di perlustrazione di carabiniere sul territorio ha prodotto i primi effetti e i primi arresti. Dopo la raffica di furti, tentati o riusciti che nelle ultime due settimane hanno registrato più di 20 colpi in ville e appartamenti compresi fra Colombarone, Casebadioli e Gradara, i carabinieri di Pesaro e Gabicemare hanno aumentato i servizi di perlustrazione nella zona scongiurando due tentati furti nel giro di due giorni. Nel primo caso una pattuglia di Gabicemare, perlustrando le vie di Casebadioli, si accorta del tentativo da parte di due malviventi di scassinare una porta a finestra. I due ladri sono però riusciti ad evitare la cattura scappando a piedi nel buio dell'aperta campagna. E' andata invece peggio un 24enne albanese che ieri è finito in manette dopo un tentato furto a Colombarone. Il giovane in questione, assieme ad un complice, ha provato ad introdursi in un appartamento, ma la proprietaria se ne accorta allertando subito i carabinieri che erano già presenti a pattugliare la zona. Sono riusciti ad individuare i due presunti ladri e ne è scatturito un lungo inseguimento a piedi durante il quale i malviventi sono introdotti anche in altre abitazioni, scavalcando cancelli di recensione. Uno è riuscito a sfuggire ai militari, l'altro, il 24enne, è stato invece bloccato e colto in possesso di strumenti utili all'effrazione. E' scattata la perquisizione domiciliare in cui è stato possibile rinvenire circa 2000 euro in contanti, banconotestere, numerose paia di occhiali di marca, penne, orologi e numerose simonili in oro fra catenine, bracciali, anelli e orecchini, oltre a un grosso televisore Samsung. Tutto reputato provento di attività illecite. Il Tribunale di Pesaro ha disposto oggi l'arresto con reclusione al carcere di Villa Fastigi in attesa dell'udienza di convalida. Sono tuttora in corso da parte dei carabinieri le operazioni di identificazione dei proprietari di tutto il materiale rinvenuto e posto sotto sequestro. I cittadini che avessero subito un furto di oggetti possono verificarne la loro appartenenza alla stazione dei carabinieri di Gabicemare. L'Istat ha pubblicato oggi i dati relativi agli incidenti stradali a livello nazionale nel 2022 appena trascorso. Un anno che nelle Marche ha visto verificarsi 4.951 incidenti che hanno causato la morte di 91 persone e il ferimento di altre 6.661. Incidenti feriti che sono aumentati dal 6% rispetto al 2021 così come sono aumentati i morti. 7 in più rispetto agli 84 dell'anno precedente. Dati in crescita in linea a quanto avviene nella provincia di Pesaro e Urbino che è la seconda provincia dopo quella anconetana più colpita da incidenti. Nel 2022 1.115 incidenti contro i 1.097 del 2021. 23 morti contro i 17 dell'anno precedente. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di alberghi e in particolare di quelli in stato di abbandono da anni sul lungomare di Pesaro. Tre di questi però stanno per passare da edifici in degrado a strutture rigenerate con un utilizzo misto tra quello turistico e quello residenziale. Continua il graduale processo di rigenerazione degli alberghi di Pesaro chiusi e abbandonati da anni. Processo recentemente accelerato dal volano di Pesaro capitale della cultura 2024 che ora restituerà altri 200 posti letto alla città attraverso la riqualificazione degli hotel sporting, la bussola e international. L'assessora alla rapidità Mila della Dora ha infatti annunciato l'approvazione in giunta di due importanti varianti al PRG richieste da privati. La prima riguarda l'hotel sporting, edificio degli anni 60 di via Nazario Sauro, chiuso dal 2007 e recentemente acquisito dalla Duca Holding riconducibile ad Enzo Cammillini di Tecnoplast. La variante avvia un processo che punta ad avviare in primavera il cantiere che trasformerà una parte dell'immobile da turistico ricettivo a misto ricettivo residenziale. Saranno mantenuti gli attuali 92 posti letto dell'hotel sporting nell'attuale struttura di sei piani e su un'ulteriore edificazione nello spazio riservato attualmente alla piscina. I primi due piani saranno riservati all'accoglienza turistica, dal terzo al sesto saranno residenziali. L'altra delibera al secondo passaggio in giunta riguarda la variante non sostanziale al PRG relativa alla bussola, altro hotel in via Nazario Sauro chiuso dal 2013. Via Libera dunque l'operazione della società privata Silver Fox per modificare anche in questo caso la destinazione a mista fra turistico ricettivo e residenziale. La capacità ricettiva dell'hotel la bussola di 56 posti letto andrà dunque a incrementare quella dell'hotel International ad angolo fra Viale Battisti e Via Da Vinci, International che verrà demolito e ricostruito con una capienza totale di 121 posti letto. Interventi che andranno conclusi entro cinque anni dal rilascio del permesso di costruire. Sabato 18 novembre ricorre la 27esima giornata della colletta alimentare, il che significa che i cittadini che si recheranno a fare la spesa in 400 supermercati marchigiani potranno aiutare con la loro generosità gli enti caritatevoli sostenuti dal Banco Alimentare. Saremo presenti in oltre 400 punti vendita in tutte le marche per sostenere la popolazione marchigiana più debole, oltre a quel che già viene fatto quotidianamente al Banco Alimentare con gli aiuti umanitari che provengono dalla Comunità Europea e dal Fondo Nazionale. Cercheremo di riconfermare i numeri dell'anno passato e grazie al supporto degli oltre 3.000 circa volontari che saranno impiegati in tutti i punti vendita aderenti all'iniziativa. Su Pesaro provincia sono oltre 100, 111 per l'esattezza e coinvolgono un migliaio di volontari solo in questo territorio. A livello regionale sono 400 supermercati e ovviamente arriviamo a quasi 5.000 volontari perché lo sforzo, l'impegno per coprire tutti i turni all'interno dei vari punti vendita è molto importante, per questo chiediamo a tutti questo gesto concreto. Per aiutare il Banco Alimentare si può essere volontari con la pettorina arancione, quindi chiedere alla gente di donare la spesa al Banco oppure fare la spesa. Tra l'altro questa è una grande occasione, la giornata nazionale della colletta alimentare che è organizzata dalla Fondazione Nazionale Banco Alimentare è la giornata in cui emerge la nostra opera, il nostro lavoro che esiste e opera ogni giorno dell'anno, quindi è un modo per noi per ripresentarci alla comunità territoriale e aderire alla giornata mondiale del povero come Papa Francesco appunto richiede a tutte le associazioni, a tutte le organizzazioni e quindi far capire esattamente che il nostro ruolo, il nostro compito è quello di fare da ponte tra il bisogno e la povertà, quindi il cibo donato e le persone in difficoltà. Quindi questo cibo che noi riceviamo in dono il giorno della colletta e il cibo che raccogliamo tutti i giorni dell'anno viene infatti distribuito gratuitamente alle associazioni caritatevoli del nostro territorio che sono circa 300 nella regione Marche che a loro volta servono il bisogno di oltre 43.000 persone. Volevo però ricordare e ringraziare delle presenze importanti nella giornata della colletta perché si mobilita tutto il mondo della comunità territoriale, tutte le squadre sportive partecipano come volontari al nostro gesto e quindi il calcio, la Vis Pesaro piuttosto che l'Ital Service Calcio a 5, tutta la squadra rugby al CONA 900, quindi abbiamo veramente la mega box volley di Montecchio, quindi abbiamo anche una partecipazione molto importante degli atleti, delle squadre che sentono in maniera molto forte questo gesto perché è un gesto di solidarietà che è per tutti, quindi invitiamo tutti a fare un gesto concreto insieme, donate la vostra spesa al Banco Alimentare. E sempre sabato 18 novembre si tolgono i veli ad un'altra associazione a sostegno in questo caso non di indigenti ma di persone malate, ovvero i quasi 30.000 marchigiani che soffrono della patologia della fibromialgia e che hanno ora un alleato in più nell'associazione Leali di Hauser che andiamo a conoscere in questo servizio. Soltanto nelle Marche ne soffrono circa 30.000 persone, 9 su 10 delle quali sono donne. Le si è dato un nome, fibromialgia, non le si è dato ancora un riconoscimento come malattia invalidante. Una dignità del malato per la quale si batte Leali di Hauser, associazione di recente costituzione che dal 12 maggio scorso, giornata nazionale della fibromialgia, ha portato avanti una pluralità di azioni partecipando ai tavoli in regione utili al processo di riconoscimento della malattia. Leali di Hauser ha però anche avviato una serie di percorsi di sostegno alla gestione del dolore dei fibromialgici di Pesaro, trattando la patologia con il sostegno di medici, psicoterapeuti, ma anche esperti di yoga, rilassamento muscolare, musicoterapia e aromaterapia. Un'associazione che si presenterà assieme a tutti i soggetti coinvolti sabato 18 novembre alle 11.30 nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro. Vivi costantemente nel dolore, ecco questa è la fibromialgia. Non sai il motivo perché potresti star bene, poi tutto ad un tratto la luce del sole potrebbe diventarti il tuo peggior nemico. Non riesci improvvisamente a camminare, hai dei dolori rancinanti, la contrattura di tutti i muscoli, dalla tachicardia all'insonnia. Più di 30.000 casi accertati nelle marche e molte ancora la vivono nella vergogna, quindi è una malattia subdola di cui difficilmente se ne parla. Leali di Hauser oggi è nei tavoli di lavoro in Regione per il riconoscimento della fibromialgia. Si sa che è una patologia che va affrontata in maniera multidisciplinare, dal neurologo allo psicologo, dei percorsi studiati veramente su misura, perché questa patologia ha più gradi di invalidità, quindi bisogna fare molta attenzione. Ci vuole molta formazione, formazione dei medici di base, formazione anche nei confronti della famiglia che ha un paziente fibromialgico in casa. È una patologia che poi si trasmette. Io ce l'ho da 37 anni, mia figlia sono 5 anni che l'è stata diagnosticata. C'è bisogno di sensibilizzare sia le persone ma soprattutto le istituzioni e noi con la costituzione di un circolo iscritto a RUNS, quindi riconosciuto giuridicamente sulla nuova normativa del terzo settore, vogliamo dare un contributo anche istituzionale, quindi coinvolgere le amministrazioni a tutti i livelli per poter definire quello che è un riconoscimento di diritto di queste persone ad avere intanto una dignità sia morale che economica, quindi cercare di trovare il modo di farla riconoscere come malattia invalidante perché questo è, purtroppo non si guarisce e allo stesso tempo dare una mano alle persone che hanno la problematica per superare quei momenti di sconforto e di difficoltà che hanno con tutti i mezzi che Hauser. Hauser lavora per i fragili e quindi dal trasporto sociale, quello che può essere l'organizzazione di attività che possono lenire il problema, noi vorremmo mettere in campo tutte queste coste e competenze che abbiamo. Archeologia e tecnologia digitale si fondono assieme in un nuovo allestimento innovativo che consente un'importante restituzione al Museo di Cagli e della Via Flaminia. Il Museo archeologico e della Via Flaminia di Cagli si riappropria dei suoi 12 guerrieri in bronzo oggi esposti al Museo archeologico nazionale delle Marche. 12 bronzetti che tornano a Cagli con un'esperienza tattile in un innovativo allestimento digitale reso possibile attraverso il progetto europeo Erasmus Next Museum. Un incontro fra tradizione e innovazione attraverso installazioni digitali che saranno inaugurate nel Museo Cagliese dal 25 di novembre. Proposta culturale che è stata presentata nella sede peserese di Confcommercio Marche Nord che da luglio gestisce il Museo archeologico di Cagli. Una bellissima restituzione al comune di Cagli perché come ormai sappiamo i bronzetti sono stati in maniera forse inopportuna sottratti al nostro comune ma anche se in maniera del tutto legittima perché erano stati venduti quindi non possiamo dire che siano stati sottratti in maniera illegale. Però ecco una cittadina che si sente privata di un bene che negli anni avrebbe potuto essere un viatico sicuramente verso un ritrovo turistico, un ritrovo culturale di una città, oggi si sente appunto restituita di questo lavoro artistico veramente fondamentale per la nostra cittadina. Questi 12 protagonisti del progetto sono 12 bronzetti che costituiscono la cosiddetta stipe di Coltona che ha un gruppo di bronzetti che sono stati oggetto di un dono votivo fatto nel tempo da diverse persone in una fase pre-romana, quindi siamo intorno al V secolo a.C. Sono 12 statuette artigianali che provengono da varie manifatture e rappresentano delle divinità guerriere. Con questo nuovo progetto noi potremo esplorare questi bronzetti a livello tattile e ci saranno anche dei contenuti digitali per approfondire la storia, le varie vicissitudini che hanno visto questi guerri come protagonisti, dalla loro scoperta fino all'oderno allestimento al Museo archeologico Nazionale delle Marche. Permetterà questa fruizione nella sua sede originale di questi bronzetti bellissimi all'interno di un progetto europeo che si chiama Museum Next, cioè il Museo del Futuro, un progetto europeo che è nato due anni fa, vede capofila Fondazione Marche, l'Università Politecnica delle Marche, partner tecnologico e diversi partner europei, che proprio questo progetto ha avuto l'obiettivo di definire la figura del curatore digitale all'interno di un nuovo approccio dei nostri musei. Ed è stato scelto proprio un caso studio, questo caso di Cagli, in cui avevamo questa stilpe di coltona, questi guerrieri bellissimi che si trovano al Museo Nazionale archeologico delle Marche di Ancona che non potevano essere spostati, attraverso le tecnologie abbiamo rifatto, come si può anche vedere oggi, una perfetta riproduzione di questi bronzetti e oggi sarà possibile, anzi dal 25 sarà possibile vedere e toccare questi bronzetti perché poi questo è stato fatto anche per favorire l'accessibilità dei non vedenti all'interno del museo. Si tratta di un'operazione molto interessante perché abbiamo voluto dimostrare che le tecnologie possono fare meraviglie, fuochi d'artifici, ma in realtà sono uno strumento molto utile per valorizzare i piccoli musei che non hanno a disposizione le risorse o le grandi opere che stanno nei nostri grandi musei. In questa maniera noi riportiamo, come dire, il patrimonio nel territorio da dove proviene. Lo chiamiamo una sorta di risarcimento del territorio. Si è appena conclusa la visita in Corea del Sud di Daniele Vimini, vice sindaco in viaggio per promuovere Pesaro, capitale della cultura 2024, del paese asiatico. Un paese con cui stringere nuovi legami con le più importanti realtà del mondo culturale e concordare anche iniziative per il futuro all'insegna del genere ossegnano, della creatività e della sostenibilità del progetto La Natura della Cultura. Nell'occasione Vimini è stato ospite della De Gu Opera House, ente organizzatore del De Gu Opera Festival, il più importante festival dell'opera di Asia. Vimini presente anche in importanti meeting nella capitale, Seul. Torniamo nella città di Pesaro perché cresce la cardiopolitana, la rete dei defibrillatori di Pesaro, città cardioprotetta. Ieri infatti nel porto di Pesaro, nei giardini di Calata Caio Duiglio, è stato installato il 65esimo dispositivo automatico esterno donato in questo caso dalla Capitaneria di Porto. Il Comune di Vallefoglia ha approvato il progetto definitivo per il completamento dei lavori di sistemazione e restauro delle mura castellane di Colbordolo. Un progetto di 900 mila euro interamente finanziati da fondi PNRR. Entro la fine dell'anno sarà poi indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori che a loro termine, dopo la realizzazione dell'impianto di nuova metanizzazione della nuova rete fognare e del rifacimento di tutti i martiri stradali che hanno comportato già un investimento di risorse di circa 3 milioni, riqualificerà dunque tutto il paese di Colbordolo, sia dal punto di vista della sicurezza che di quello del decoro urbano. E torniamo su Pesaro in Piazza del Popolo dove ci sarà un weekend con protagonista il gusto e l'abilità degli artigiani delle Marche. Si chiama infatti Artigiani al Centro, l'iniziativa organizzata dalla CNA di Pesaro e Urbino col sostegno della Camera di Commercio che proporrà le piazzette dei mestieri e dei sapori, ovvero un mercatino di qualità in piazza con il meglio della produzione enogastronomica e dei mestieri artigianali della Regione. Artigiani del gusto e dei mestieri che giungeranno da tutte le Marche per esaltare il valore del fatto a mano, della manualità e dell'abilità artigiana, il tutto dalle 9.30 del mattino fino alle 20.00. E invece nella sede dell'Unione Pian del Bruscolo è stato presentato oggi il progetto Chimera finanziato dalle Regioni Marche all'interno del bando Interscambi che vede coinvolti i comuni di Gabice Mare, Gradara, Vallefoglia, Pesaro, Montelabate e Tavuglia insieme a diverse associazioni giovanili. Tante le attività proposte dal progetto e rivolte a giovani fra 14 e 35 anni, a partire dai workshop organizzati da Tavolo Studenti con il laboratorio di fumetti curato da Guido Brualdi presso lo spazio Art Lab e poi le proposte di Tribal Ex che aprirà un call per giovani artisti e compagnie che avranno la possibilità di partecipare ad una residenza di 5 giorni a Monteluro, passando poi per l'attività del Teatro Le Ombre con l'iniziativa del Baratto Culturale e Giogrà che lavorerà a stretto contatto con i ragazzi delle scuole, proseguendo poi col Cineforum e gli Speech Cocktail organizzati dall'associazione Critica Pop in grado di affrontare tematiche e confronti in una chiave informale. E concludiamo con lo sport e con le tematiche relative alla corretta alimentazione e all'equilibrio mentale che ne sostengono la pratica, argomenti che saranno al centro di un seminario aperto ad atleti, tecnici e alle loro famiglie in programma sabato all'Hotel Alexander. Mensana in corpore sano. Questo il titolo del seminario dedicato ad atleti, tecnici sportivi e le loro famiglie che sabato 18 novembre si terrà all'Alexander Museum Palace Hotel a partire dalle 15.30. Un seminario in cui attraverso il contributo di nutrizionisti, biologi, psicologi, naturopati e tecnici sportivi si accenderà il focus sulla buona alimentazione e la salute mentale quali pilastri fondanti dell'attività sportiva. Un focus ampliato anche alle tematiche connesse alla disabilità. Un appuntamento che è stato presentato oggi in Comune di Pesero e che mette al tavolo di confronto una pluralità di soggetti, dall'Associazione Piattaforma Solidale alla Federazione Pentatron, da terapeia all'AS di Montegranaro. Parleremo di sport, nutrizione ma anche in generale di salute mentale dell'atleta. Infatti io sono una psicologa quindi darò un focus su questo argomento e abbiamo pensato di organizzarlo proprio per rispondere a molte domande pratiche che ci vengono fatte sul campo dai genitori, a volte anche dagli atleti, quelli un po' più grandi. Domande pratiche su cosa posso mangiare prima dell'allenamento perché esco all'una e mezza da scuola, alle due devo essere in vasca e dopo l'allenamento in gara, quindi proprio anche preoccupazioni dei genitori, come faccio se mio figlio mangia troppo, mangia poco, non mangia nulla. Abbiamo pensato di poter dare un'opportunità a genitori, a tecnici e anche ad atleti di poter parlare con dei professionisti. Avremo tre biologi nutrizionisti, io che sono una psicologa e poi avremo anche il tecnico, l'allenatore di Pentaton che ci darà un focus sul mondo sportivo e sulle specificità del multisport, quindi speriamo che possa essere utile diciamo proprio per rispondere ai dubbi pratici. E si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News, non si concludono però gli appuntamenti informativi su Rossini TV perché subito dopo il nostro Tg alle 20.10 come ogni mercoledì l'appuntamento con la finanza è per tutti, le pillole di educazione finanziaria a cura di banca UIDI, l'appuntamento alle 20.10, oggi parleremo di risparmiare con metodo e libertà attraverso il contributo del consulente finanziario Francesco Pesaro, appuntamento alle 20.10 e poi le repliche che vedete in grafica a cominciare da questa sera stessa alle 22.30. Prima serata che continua invece alle 21.20, andremo a scoprire l'impianto della discarica di Casprete, il nuovo impianto ad osmosi inversa per il trattamento dell'epercolato, impianto che è stato inaugurato nei giorni scorsi, vedremo di cosa si tratta alle 21.20. E poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con l'appuntamento fisso di Buongiorno Rossini, appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia tutte le mattine dal lunedì al sabato. Altra diretta è quella delle giovedì sera, quella di insieme a Canestro con la nostra Elisabetta Ferri che accende nel suo salotto un focus sul basket e sulle vicende della VL, lo faremo in questo caso domani sera con la compagnia del pivo della Carpegna Prosciutto Basket Pesero Leonardo Totè e dell'ex giocatore della VL Alfredo Carboni, il tutto con la possibilità di interazione in diretta di voi tifosi e telespettatori al numero WhatsApp che vedete in grafica 370-366-7210. E invece si conclude qui Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.